Noi come Terziario Donna teniamo molto alla crescita delle imprese del nostro territorio e in particolare delle donne imprenditrici, per cui abbiamo pensato di organizzare questa tavola rotonda, diciamo, dove si mettono a confronto imprenditrici giovani e imprenditrici già affermate per una crescita reciproca, diciamo. E poi alla fine di questo incontro ci sarà una breve lezione tenuta da due docenti ormai di fama, Gabriella Acerbi e Maurizio Terenzi, i quali saranno i moderatori poi di tutto l'evento, per cui invitiamo tutte le giovani donne tra 20 e 40 anni a partecipare a questa tavola rotonda, perché poi le imprenditrici già affermate, diciamo, che fanno parte del nostro consiglio, quindi ci saranno sicuramente, saranno sicuramente presenti. Pensiamo che le giovani donne che parteciperanno a questo confronto, diciamo, che porteranno a casa o meglio ancora nelle loro aziende sicuramente un bel bagaglio di informazioni. E noi ci prendiamo, diciamo, le imprenditrici più affermate, ci prendiamo una carica di novità e di gioventù che ci farà sicuramente bene per crescere anche a noi.